Un corteo di appartenenti al CPA ha sfilato oggi pomeriggio a Firenze partendo da San Lorenzo e percorrendo le vie della città per dire no all'ordinanza prefettizia che vieta di stazionare in alcune aree della città a persone dedicate ad attività illegali. La prefettura ha emesso l'ordinanza nei giorni scorsi in accordo con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui ha preso parte anche il sindaco Dario Nardella. L'ordinanza di fatto introduce una sorta di daspo urbano ad hoc ovvero tarato sulla Fortezza da Basso, il Parco delle Cascine, Piazza San Jacopino ma soprattutto su diverse zone del centro storico finite nel mirino delle Forze dell'Ordine, Via dei Servi, Piazza dei Ciompi, Via dell'Ariento, Via Sant'Antonino, Borgo San Lorenzo, Piazza del Mercato Centrale, Via Nazionale, Largo Fratelli Allinari, Piazza della Stazione, Via Panicale, Via Guelfa, Via De Benci, Largo Pietro Annigoni, Via dei Pandolfini. Contro questo provvedimento si è svolta la manifestazione di oggi che complice una improvvisa e forte pioggia ha visto una scarsa partecipazione.